Asino, ho sentito che tuo fratello potrebbe unirsi a noi e alla Labris, è vero? È merito mio. Sta crescendo anche il mio potere. Solo io posso realizzare il vero potenziale di Labris. Sono destinata alla grandezza. Che adorabile ottimismo, Ezreal. Sarò implacabile. Un'altra trasformazione. Hai fallito. Tutto secondo i piani. Ero preparata. Labris mi ha resa inarrestabile. Niente e nessuno potrà fermarmi. Jace, potrebbe essere il caso di farti espellere. La fatica non è nulla senza i risultati. Che brutta forma! In classe e sul campo di battaglia, la mia forza è assoluta. Fallire non è un'opzione. Mi sono distratta. Non succederà di nuovo. Mi piace sapere che il mio piano è in atto. Con il potere di Labris non perderò. Ho preparato dei dossier sui nostri avversari. Studiate. Fallirai. Guarda meglio. Come fai a sorridere ancora, Ezreal? Smettila! La mia arma si trasforma. C'è spazio per un solo rappresentante di classe, Jace. Vincerò sempre io. Ogni grande generale è uscito dalla Labris. Ecco perché mi sono iscritta. I miei compagni hanno potenziale, ma non si applicano. Sono io la loro speranza. Dovrebbe farmi paura. E quelli che non sanno insegnare sono il preside Swain. Ho studiato per questo. Leona. E va bene. Vediamo cosa hai imparato. Ora capisco, Lux. Sei l'imbarazzo della famiglia. Neanche un capello fuori posto. Potevi essere grande, Catarina. Che peccato. Il mio budino è imbattibile. Va sbattuto. Posso fare di meglio. Devo. Facciamolo, Labris. Non puoi vincere. Labris sarà anche forte. Ma ha bisogno di me. Sono qui per vincere. Fine. Anch'io sono cambiata. Abbiamo perfezionato le nostre abilità insieme. Non mi limito a battere il nemico. Gli faccio passare la voglia di sfidarmi di nuovo. Mira da dieci più. Ho fatto centro. I leader conquistano la lealtà con bastone e carota. Io uso guida allo studio e scazzottate. Ione. Per maloso è facile da battere. Al primo anno sono arrivata in cima. Cosa farò nel secondo? Hai fatto un errore di calcolo. Non ci provare. Non perderò. Non ho paura. Sono pronta. Bel vestitino. Rivediamo la strategia. Pensavi fosse il mio unico piano? Insufficiente. Passo dritto al piano Q. Meriti di perdere. Labris non ti bastava, Catarina. Oppure non bastavi tu. Che perdita di tempo. Perché non perdi? Vuoi fare sparring, Wukong? Ci sto. Ho giusto due minuti. Le dovremo segnare un'assenza, signora preside. Garen non mi ha mai parlato di te. Chissà perché. Mi aspetto di meglio da te la prossima volta, Leona. Troppi abbracci, pochi schiaffi. Non capisco il fascino. Labris diventa più forte. Nuovo piano. Dicono che addestri eroi, Yumi. Ma sono anche vincitori? Le mie strategie funzionano sempre. Labris è il più spietato degli dèi arma. Calzante. Il mondo ci osserva. Concentriamoci. Il mio piano è imbattibile. Non hai fatto attenzione? Sono un genio. Se non ce l'ammetto tutta io, nessuno lo farà. Il livello di potenza di Labris? Questo è il mio budino. La mia ricetta per il successo. Ho davvero perso. Cosa sta succedendo? L'occhio di Labris è sempre vigile. Sono la migliore scelta da Labris. A questi pedoni serve una regina. Ha! C'è un motivo se sono la prima della classe. Con la forma finale di Labris sono imbattibile. Un più per l'impegno. Questa volta sarò perfetta. Oh! C'è disciplina ai vertici. Ho imparato più dai miei scontri che dalle lezioni. Un'altra verifica perfetta. Ormai dovrai aver vinto. Quei completi ti danno il potere o è solo pigrizia? Sono più brava. Inizia la lezione. Voto 10. Dicono che chi non sa fare insegna. Vero, preside? Diamo un'occhiata alle opzioni. Non è un problema mio se rovino la scala dei voti. È un problema degli altri. Facciamola finata. Sono sempre stata cinque mosse avanti. Con la mia strategia non possiamo perdere. Fate attenzione e seguite me. Perdere non è un'opzione. La prossima volta studia. Proprio come mi aspettavo. Labris, coprimi. Studia un po' prima di affrontarmi di nuovo, Garen. Tutti vedono i giovani dell'Accademia Labris come studenti problematici. Finché non vinciamo. Non ho mai incontrato un mio pari. E mai accadrà. Non mi faranno mai sudare. Non posso fare altri errori. Ripetente. Hai attivato la mia trappola. Diamoci una mossa. Ancora più potere. Il senpai ti ha notato? Tocca a me. Perfetto. Garen, ti facevo più furbo di così. Ma mi sbagliavo. I compagni di classe non sono amici, ma pedoni. Non sono qui per fare amicizia. Sono qui per farmi un nome. Tutti si aspettano grandi cose da me. Lavora sulla disciplina, Wukong, o non mi batterai mai. Meglio di quanto potessi sperare. Ci vuole un nuovo piano. Basta chiacchiere. Ho scelto Labris e Labris ha scelto me. Bene, ma non perfetto. Attenzione. Grazie. 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 Grazie.